Nel più alto livello della palavolo, giocando contro grandissime squadre, che partita? Sono ancora un po' fuori ancora, però è stata veramente una grande prestazione di cuore un'altra volta della squadra che dopo il quarto set non lo so quanti match point abbiamo avuto, però al tie break siamo tornati pensando solo a giocare il punto a punto. Questo dimostra la maturità di questa squadra e abbiamo fatto il poker, cavato il poker, no? Champions, campionato, mondiale e adesso la Coppa, per noi veramente speciale. Hai vinto di fronte a papà? Sì, lui, mia sorella, è proprio una cosa bellissima stare con loro, queste gioie insieme a loro è ancora più bello, veramente sono emozionato. Senti, come puoi pensare ad andare via dall'Italia? Guarda, è una scelta che sto facendo personale, proprio, quasi familiare, niente, io sono veramente il gioco per questi momenti, no? Però, io lo so che è difficile, ma questa è una scelta che sto facendo per stare più vicino ai miei e niente, non c'è ancora 100% definito, però è una cosa che ci tengo tanto, ma io in questo momento voglio godere. Abbiamo ancora uno scudetto e una Champions da giocare e noi vogliamo ancora di più. Grazie.